Capitana Susanna Bonfiglio. C'è intanto il canestro da tre punti di Valentina Donvito che riduce così lo svantaggio anche se adesso con un tiro di Pertile si riporta nuovamente in vantaggio. L'Umana Venezia 5 a 3 il fondo per questa rimessa in gioco. Pallone subito per Pertile che va alla conclusione, va a mettere dentro ancora da tre. Pertile ancora per Melchiorri, ribalta il gioco ancora per Pertile. Pertile con il canestro di Pertile che avvicina Venezia all'Abbrico Center 25. Porto il pallone non va, mi approfitta Carangelo. Pallone lungo per Pertile che mette a segno e quindi c'è il vantaggio di Venezia. Salevi Ceva e Gerbass. Del Ceva per un attimo ha perso palla, poi l'ha persa definitivamente, scatta in contropiede Pertile e va via. La scaramuzza. Formiglio che gira per Pertile, l'entrata di Pertile che poi alla fine scarica per Mandace. Passa. Sbaglia Gerbass. Poi il pallone viene comunque catturato da Formica. Pallone per Pertile mette a segno.